Professoressa San Vitale, oggi importante convegno al Mantonè per parlare di sport e disabilità, c'è molta strada da fare? Sì, assolutamente sì, perché si è sempre pensato che lo sport e la disabilità fossero due campi distinti e invece assolutamente lo sport è fondamentale per una reale inclusione per tutti. Siccome noi ci caratterizziamo perché siamo una scuola molto inclusiva, abbiamo dato molto spazio, tant'è vero che abbiamo anche attivato specifici corsi sportivi per studenti disabili accompagnati da tutor dei ragazzi nostri e stiamo avendo dei risultati incredibili perché c'è uno sviluppo della coscienza, della relazionalità, proprio anche dell'attività motoria dei ragazzi con lo sport e quindi anche dell'apprendimento che ci sta stupendo e commuovendo, per cui è assolutamente importantissimo lanciarlo per tutti, questa possibilità concreta, reale e altamente inclusiva. Importante far sentire questi ragazzi uguali agli altri? Assolutamente, non ci sono come diceva Don Milani degli esclusi, altrimenti la scuola che fa è solo per i sani ed è come se l'ospedale curasse soltanto i sani. La scuola è per tutti ed è traccia ad ognuno singolarmente preso la sua strada per potenziare al massimo i suoi talenti e le sue possibilità. Tutti, siamo tutti diversamente uguali.